46. La palestra della scuola superiore di Homewood era diventata un ospedale e il personale della Croce Rossa e dell'esercito aveva allestito dei generatori che tenevano l'elettricità in funzione. Un macilento dottore della Croce Rossa, di nome Eichelbaum, conduceva sorella e Paul Thorson attraverso il labirinto di persone sdraiate su brande e materassi, sul pavimento. Sorella si tenne accanto il suo borsone. Non si era allontanata da esso di più di un metro e mezzo, nei tre giorni da quando i loro spari erano stati uditi da un gruppo di sentinelle. Un pasto caldo di mais e riso e caffè fumante le erano sembrati delle delicatezze da buon gustaio. Era andata in un cubicolo o in un edificio contrassegnato come in arrivo e aveva accettato di essere spogliata da un'infermiera con un abito bianco e una mascherina che le aveva passato un contatore Geiger sul corpo. L'infermiera aveva fatto un salto all'indietro di un metro quando la lancetta del contatore aveva superato quasi la scala di riferimento. Sorella era stata strofinata con una specie di polvere bianca e granulosa, ma il contatore aveva continuato a gracchiare come una gallina in calore. Mezza dozzina di strofinamenti riportò la lettura a un livello accettabile. Ma quando l'infermiera aveva detto «Dobbiamo disfarci di questo» e aveva provato a prendere il borsone, sorella l'aveva afferrata per la nuca e le aveva chiesto se voleva continuare a vivere. Due medici della Croce Rossa e un paio di ufficiali dell'esercito, che sembravano dei boy scout, tranne che per l'ustioni livide sui loro volti, non riuscirono a portarle via il borsone. E alla fine il dottor Eichelbaum aveva gettato in alto le braccia e aveva urlato «Allora strofinate via quella merda da quella dannata cosa!» Il borsone era stato strofinato diverse volte e la polvere era stata sparsa con abbondanza sui suoi contenuti. «Tenga quel dannato borsone chiuso, signora!» disse Eichelbaum furioso. Un lato del suo volto era coperto da ustioni blu e aveva perso la vista da un occhio. «Se la vedo aprirlo una sola volta, finirà nell'inceneritore!» avevano dato sia a sorella che a Paul Thorson delle tute da lavoro bianche. La maggior parte degli altri le portava e con esse anche degli stivali di gomma, ma Eichelbaum le informò che le calzature antiradiazioni erano state distribuite tutte diversi giorni prima. Il dottore aveva applicato una sostanza simile alla vasilina sui segni delle ustioni sul volto di sorella e aveva esaminato attentamente una parte di pelle inspessita appena sotto il suo mento, che sembrava una crosta circondata da quattro piccole escrescenze simili a verruche. Ne aveva trovate altre due sulla mascella, sotto il suo orecchio sinistro, e una settima proprio nella piega del suo occhio sinistro. Le disse che circa il 65% dei sopravvissuti aveva segni simili, molto probabilmente un melanoma, ma non c'era nulla che lui potesse fare in merito. Tagliarli via con un bisturi le disse, li avrebbe soltanto fatti ricrescere più grandi, e le mostrò un brutto segno nero simile a una crosta che si stava allargando dalla punta del proprio mento. Le aveva detto che la cosa più particolare di quei segni era che comparivano solo sulla faccia o nelle immediate vicinanze. Non ne aveva visto nessuno al di sotto del collo o sulle braccia o sulle gambe dei sopravvissuti, né in alcun'altra area di pelle esposta alle esplosioni. L'ospedale improvvisato era pieno di vittime di ustioni, persone avvelenate dalle radiazioni e persone in stato di shock o depresse. I casi peggiori erano ottenuti nell'auditorium della scuola, le aveva detto Eichelbaum, e il loro tasso di mortalità era intorno al 99%. Anche il suicidio era un grosso problema, e man mano che i giorni passavano e che la gente sembrava iniziare a capirne di più dell'estensione del disastro, disse il dottore, il numero di persone trovate impiccate agli alberi aumentava. Il giorno prima, sorella era andata alla biblioteca pubblica di Homewood e aveva trovato l'edificio deserto. La maggior parte dei libri era sparita, usata come combustibile per i fuochi che avevano tenuto in vita la gente. Gli scaffali erano stati strappati via, e i tavoli e le sedie erano stati portati via per essere bruciati. Sorella svoltò in una delle poche corsie in cui gli scaffali di libri c'erano ancora, e si trovò a fissare le calzature antiradiazioni di una donna, che era salita su una scaletta e si era impiccata a una plafoniera. Ma trovò quello che stava cercando, in mezzo a una pila di enciclopedie, libri di storia americana, almanacchi contadini e altri libri, che erano stati risparmiati dalle fiamme. E lì lo vide con i suoi occhi. «Eccolo qui», disse il dottor Eichelbaum, facendosi strada attraverso le ultime brande della fila, verso quella su cui c'era Arti Wisco. L'uomo sedeva appoggiato a un cuscino, con un tavolino tra la sua branda e quella alla sua sinistra, ed era assorbito da una partita di poker con un giovane uomo nero, il cui volto era coperto da ustioni bianchi e triangolari, così precise che sembrava gli fossero state timbrate sulla pelle. «Ehi là», disse Arti, sorridendo a sorella e a Paul mentre si avvicinavano. «Polaos», girò le carte, e l'uomo nero disse «Merda, tu imbrogli, amico». Ma gli passò degli stuzzicadenti, prendendoli da una pila sul suo lato del tavolino. «Guardate qua!» Arti tirò indietro il lenzuolo e mostrò a loro la gran quantità di band che si incrociava sulle sue costole. «Robot qui vuole giocare a Triss sulla mia pancia!» «Robot», chiese sorella, e il giovane nero sollevò un dito per toccarsi un cappello invisibile. «Come sta oggi?» chiese il dottore ad Arti. «L'infermiera ha preso il suo campione d'urina?» «Certo che l'ha fatto», disse Robot e fece un grido divertito. «Il piccolo pazzo qua ha un cazzo che arriva da qui a Filly!» «Non c'è molta privacy qui», spiegò Arti a sorella tentando di mantenere la dignità. «Devono prendere i campioni davanti a Dio e a tutti gli altri». «Se alcune delle donne qua intorno vedono quello che tu hai lì...» «Pazzo, ti pregheranno in ginocchio, te lo dico io!» «Oh mio Dio», squitti Arti imbarazzato. «Vuoi stare zitto?» «Ti vedo molto meglio», disse sorella. La pelle di Arti non era più grigia e malaticcia e anche se il suo volto era un ammasso di bende, segni lividi e scarlatti di ustioni, cheloidi, li chiamava il dottor Eichelbaum, pensò addirittura che avesse un colorito sano sulle guance. «Oh sì, divento più bello ogni giorno che passa. Uno di questi giorni guarderò nello specchio e dall'altra parte ci sarà Cary Grant a restituirmi lo sguardo». «Non ci sono specchi qua intorno, pazzo», gli ricordò Robot. «Tutti gli specchi si sono rotti». «Arti sta rispondendo molto bene alla penicillina che gli abbiamo iniettato. Grazie a Dio abbiamo quella roba, altrimenti la maggior parte di questa gente sarebbe morta per le infezioni», disse il dottore. «Ha ancora molta strada da fare prima di essere guarito, ma credo che se la caverà». «E che mi dice del ragazzo Buchanan? E di Mona Ramsey», chiese Paul. «Devo controllare l'elenco, ma credo che nessuno dei due sia in condizioni critiche». Fece girare lo sguardo nella palestra e scosse la testa. «Ce ne sono così tanti, non riesco a tenere il passo». Il suo sguardo tornò su Paul. «Se avessimo il vaccino farei a tutti voi un'antirabbica, ma non ce l'abbiamo e quindi non posso farlo. Reste bene a sperare che nessuno di quei lupi avesse la rabbia». «Ehi, dottore», disse Artie, «quando pensa che potrò uscire da qui». «Come minimo tra quattro o cinque giorni. Perché hai in progetto di andare da qualche parte?» «Sì», rispose Artie senza esitazione. «A Detroit». Il dottore inclinò la testa per fissare Artie Wisco con l'occhio buono. «Detroit», ripeté. «Ho sentito che Detroit è stata una delle prime città colpite. Mi dispiace, ma credo che non esista più una Detroit». «Forse no, ma è lì che andrò. È lì che ci sono casa mia e mia moglie. Diamina, io sono cresciuto a Detroit. Che c'è stata colpita o meno, devo tornare lì e scoprire cosa è rimasto». «Probabilmente è come Philly», disse Robot piano. «Amico, non è rimasto nemmeno un mattone di Philly». «Io devo andare a casa», disse Artie con voce risoluta. «È lì che si trova mia moglie!» Alzò lo sguardo su sorella. «L'ho vista, lo sai. L'ho vista nell'anello di vetro. E aveva proprio l'aspetto di quando era ragazza. Forse voleva dire qualcosa, come per esempio che dovevo avere fede e continuare ad andare a Detroit e continuare a cercarla. Forse la troverò, o forse no, ma devo andare. Tu verrai con me, vero?» Sorella restò in silenzio per qualche istante. Poi accennò un sorriso e disse «No, Artie, non posso. Io devo andare in un altro posto». Lui si accigliò. «E in che posto?» «Ho visto anch'io qualcosa nell'anello di vetro e devo andare a scoprire cosa significa. Devo farlo proprio come tu devi andare a Detroit». «Non so di che diavolo sta parlando», disse il dottor Eichelbaum. «A dove pensa di andare?» «In Kansas». Sorella vide l'unico occhio del dottore sbattere la palpebra. «In una città chiamata Matheson. È sull'Atlante stradale Rand McNally. Aveva disubbidito agli ordini del dottore e aveva aperto il suo borsone abbastanza a lungo da infilarci dentro l'Atlante, vicino al cerchio di vetro coperto di polvere. «Sa quant'è lontano il Kansas? Com'è intenzione di arrivarci? A piedi?» «Esattamente». «Sembra non capire questa situazione», disse il dottore, calmo. Sorella riconobbe nel suo tono di voce il modo con cui gli assistenti si rivolgevano alle donne pazze nel manicomio. «La prima ondata di missili nucleari ha colpito ogni grande città di questa nazione», spiegò lui. «La seconda ondata ha colpito basi aeree e navali. La terza ha colpito le città più piccole e le industrie rurali. Poi la quarta ondata ha colpito ogni altra dannata cosa che non stava già bruciando. Da quello che ho sentito dire, sia a est che a ovest c'è una distesa devastata in un raggio di circa 80 chilometri da questo punto. Non c'è d'altro che rovine, è gente morta. È gente che sta desiderando di essere morta. «E lei vuole andare in Kansas a piedi?» «Certo. Le radiazioni la uccideranno prima di fare 150 chilometri». «Sono sopravvissuta all'esplosione di Manhattan. Come anche Arti. Come mai le radiazioni non ci hanno già uccisi?» «Sembra che alcune persone siano più resistenti di altre. È una questione di fortuna, ma questo non significa che può continuare ad assorbire radiazioni e scrollarsele di dosso». «Dottore, se avessi dovuto morire per le radiazioni, sarei uno scheletro adesso. E l'aria è comunque piena di quella merda. Lo sa bene quanto me. Quella roba è ovunque». «Il vento le trasporta, sì», ammise lui. «Ma lei ha intenzione di camminare direttamente in una zona supercontaminata. Ora non conosco le sue motivazioni per volere andare a...» «No, non le conosce». Lo interruppe lei. «E non può conoscerle. Per cui risparmi il fiato. Ho intenzione di riprendermi qua per un po' e poi me ne andrò». Il dottor Eichelbaum iniziò di nuovo a protestare. Poi vide la determinazione nello sguardo della donna e seppe che non restava altro da dire. Comunque, era nella sua natura avere l'ultima parola. «Lei è pazza». Poi si voltò e si allontanò a grandi passi, decidendo che aveva di meglio da fare che non tentare di impedire un'altra mente catta di commettere un suicidio. «Il Kansas», disse Arti Wisco piano. «È molto lontano da qui. Sì, mi servirà un buon paio di scarpe». D'un tratto gli occhi di Arti scintillarono per le lacrime. Allungò una mano e afferrò quella di sorella, premendosela contro la guancia. «Dio ti benedica», disse. «Dio ti benedica». Sorella si chinò e lo abbracciò e lui le baciò la guancia. Lei sentì l'umidità di una lacrima e il suo cuore si strinse per lui. «Sei la donna migliore che abbia mai conosciuto», le disse Arti. «Oltre mia moglie, intendo». Lei lo baciò e poi si raddrizzò. I suoi occhi erano umidi e sapeva che negli anni a venire avrebbe pensato a lui molte volte e avrebbe recitato una preghiera nel suo cuore per lui. «Vai a Detroit», disse. «E trovala. Mi hai sentito?» «Sì, ti ho sentito». Arti a lui, con gli occhi scintillanti come Penny nuovi di zecca. Sorella si voltò e Paul Thorson la seguì. Dietro di sé sentì il robot dire «Io avevo uno zio a Detroit. Stavo pensando di…». Sorella attraversò l'ospedale e uscì dalle porte. Si fermò a fissare il campo da football che era ricoperto di tende, automobili e furgoni. Il cielo era di un grigio spento e pieno di nuvole. A una certa distanza sulla destra, davanti alla scuola e sotto una lunga tettoia rossa, c'era una grande bacheca su cui la gente attaccava messaggi e domande. La bacheca era sempre piena e sorella c'era passata davanti il giorno prima, leggendo le richieste scribacchiate su pezzetti di carta. «Cercò mia figlia Becky Rollins, 14 anni, scomparsa nella zona di Shanandoa il 17 luglio. Chiunque abbia informazioni sulla famiglia di Battista di Scranton, per favore lasciate. Cerchiamo il reverendo Bowden, prima chiesa presbiteriana di Hazleton. Servono urgentemente i suoi servizi». Sorella camminò fino alla recinzione che circondava il campo di football, appoggiò a terra il borsone accanto a sé e strinse forte la rete con le dita. Dietro di lei si udiva il suono di una donna che piangeva vicino alla bacheca e sorella trassa lì. «Oddio», pensò, «che cosa abbiamo fatto?» «In Kansas, eh? Che diavolo vuoi andarci a fare lì?» Paul Thorson si mise accanto a lei e si appoggiò alla recinzione. Aveva una stecca sul dorso del suo naso rotto. «Kansas», disse di nuovo. «Cosa c'è lì?» «Una città chiamata Matheson. L'ho vista nell'anello di vetro e l'ho trovata sull'Atlante stradale. È lì che andrò». «Sì, ma perché?» Tirò su il colletto della sua malmessa giacca di pelle contro il freddo. Aveva lottato per tenerla tanto quanto lei aveva lottato per il suo borsone e la indossava sopra la tuta bianca. «Perché?» Si fermò e poi decise di dirgli quello che stava pensando fin da quando aveva trovato l'Atlante. «Perché sento che sono guidata verso qualcosa o qualcuno. Credo che le cose che ho visto in quel vetro siano vere. Ho camminato nel sogno in posti reali. Non so perché o come. Forse l'anello di vetro è come, non lo so, come un'antenna o qualcosa del genere. O come un radar. O una chiave per una porta della cui esistenza non ho mai saputo prima. Credo di essere guidata per una ragione e devo andare.» «Adesso stai parlando come la donna che ha visto un mostro con occhi che si spostavano.» «Non mi aspetto che tu capisca. Non mi aspetto che te ne freghi un cazzo e non te l'ho chiesto. Che ci fai qui in ogni caso? Non ti hanno assegnato una tenda?» «Sì, lo hanno fatto. Sto con altri tre uomini. Uno di loro piange in continuazione e un altro non riesce a smettere di parlare di baseball. Io odio il baseball.» «Che cosa non odi, signor Thorson?» Lui si strinse nelle spalle e si guardò intorno, osservando un uomo e una donna anziani, entrambi con la faccia macchiata da cheloidi, sostenersi a vicenda mentre si allontanavano dalla bacheca. «Non odio stare da solo», disse alla fine. «Non odio dipendere da me stesso. E non odio me stesso, anche se a volte non mi piaccio tantissimo. Non odio bere. Più o meno è tutto.» «Buon per te.» «Beh, voglio ringraziarti per avere salvato la mia vita e anche quella di Artie. Ti sei preso cura di noi e lo apprezzo. Quindi...» gli tese la mano. Lui non la strinse. «Che cosa possiedi che valga qualcosa?» le chiese. «Eh?» «Qualcosa di valore. Hai qualcosa che valga la pena scambiare?» «E scambiare per cosa?» L'uomo annui verso i veicoli parcheggiati sul campo. Sorella vide che stava guardando una vecchia jeep ammaccata dell'esercito, con un tettuccio rappezzato, colorato con colori mimetici. «Hai qualcosa in quella borsa che puoi scambiare con una jeep?» «No, non...» E poi ricordò che proprio in fondo al suo borsone c'erano i blocchi di vetro incrostato di gioielli che aveva raccolto insieme all'anello nelle rovine dei negozi di Stubenglass e Tiffany. Li aveva trasferiti dalla borsa Gucci e li aveva dimenticati. «Avrai bisogno di un mezzo di trasporto?» disse Paul. «Non puoi camminare da qui al Kansas. E che farai per la benzina, il cibo e l'acqua? Ti serviranno un'arma da fuoco, dei fiammiferi, una buona torcia e abiti caldi. Come ho detto, signora. Quello che c'è là fuori sarà come Dodge City e l'inferno di Dante messi insieme.» «Forse sarà così. Ma perché dovrebbe interessarti?» «Non mi interessa. Sto solo tentando di metterti in guardia. Tutto qui.» «Sono in grado di prendermi cura di me stessa.» «Sì, scommetto di sì. Scommetto che eri la più stronza del ballo.» «Ehi!» chiamò qualcuno. «Ehi, la stavo cercando, signora.» Si stava avvicinando l'uomo alto con il cappotto foderato di pecora e il cappellino della birra Stroh, che era stato di guardia e aveva sentito i loro spari. «La stavo cercando», disse, mentre masticava un paio di strisce di gomma. «Eichelbaum ha detto che era da queste parti.» «Mi ha trovata. Che succede?» «Beh», disse lui. «La prima volta che l'ho vista ho pensato che mi fosse familiare. Lui però aveva detto che avrebbe portato una grossa borsa di pelle, quindi penso sia quella che mi ha forviato.» «Di cosa stai parlando?» «È stato due o tre giorni prima che voi arrivaste qui. Quel tizio è arrivato seguendo la interstatale 80 come se fosse una domenica pomeriggio. Era su una di quelle bici da corsa con il manubrio piegato in basso. Lo ricordo perché il vecchio Bobby Coates e io eravamo nel campanile della chiesa di guardia e Bobby mi ha dato un colpo sul braccio e mi ha detto «Cliff, guarda là!» «Le ho guardato e l'ho visto, ma ancora non ci credevo.» «Parla inglese, amico», scattò Paul. «Di che si trattava?» «Oh, era un uomo. Pedalava con quella cosa sulla interstatale 80, ma la cosa davvero strana era che c'erano 30 o 40 lupi che lo inseguivano quasi alle calcagne, come una sfilata. E appena prima di arrivare in cima alla collina, questo tizio è sceso dalla bici e si è voltato. E allora quei lupi si sono accovacciati e sdraiati come se fossero faccia a faccia con Dio. Poi si sono sparpagliati e sono scappati via e questo tizio ha spinto la bici fino in cima alla collina.» Cleve si strinse nelle spalle e la confusione era evidente sul suo volto bovino. «Siamo usciti per avvicinarlo. Un tizio grosso, robusto, difficile dire quanti anni aveva comunque. Aveva capelli bianchi, ma la sua faccia era giovane. In ogni caso indossava un abito e una cravatta e un impermeabile grigio. Non sembrava essere ferito o altro. Indossava scarpe bicolore. Lo ricordo molto bene, scarpe bicolore.» Cleve grugnì, scosse la testa e guardò sorella. «Ha chiesto di lei, signora. Ha chiesto se avessimo visto una donna con una grossa borsa di pelle. Ha detto che era una parente e che doveva trovarla. Sembrava davvero ansioso e anche interessato a rintracciarla. Ma io e Bobby non ne sapevamo niente di lei, ovviamente. Questo tizio ha chiesto alle altre sentinelle, ma nemmeno loro la conoscevano. Gli abbiamo detto che lo avremmo portato a Homewood, che gli avremmo dato un pasto e un riparo e che gli avremmo fatto dare un'occhiata da quelli della Croce Rossa.» Il cuore di sorella aveva iniziato a battere forte e sentiva molto freddo. «Cosa?» è stato di lui.» «Oh, ha proseguito. Ci ha ringraziati gentilmente e ha detto che aveva ancora chilometri da fare. Poi ci ha salutati ed è sparito dalla nostra vista pedalando verso ovest.» «Come sai che questo tizio cercava lei?» chiese Paul. «Avrebbe potuto cercare qualche altra donna con una borsa di pelle.» «Oh, no», rispose Cleve e sorrise. «Ha descritto questa signora qui così bene che potevo vedere il suo volto direttamente nella mia testa, come una fotografia. Ecco perché ho pensato che mi sembrava familiare all'inizio, ma ho messo tutto insieme solo questa mattina. Vede, non aveva una borsa di pelle ed è quello che mi ha forviato.» Guardò sorella. «Lo Dave, qualcosa del genere. Beh, è andato a Ovest. Non so cosa troverà là fuori. È un vero peccato che vi siete mancati per così poco.» «Sì.» «Sorella si sentiva come se le sue costole fossero strette da fasce d'acciaio.» «Un vero peccato.» «Cleve si toccò il berretto e tornò alle sue faccende.» «Sorella si sentì come se fosse sul punto di svenire e dovette appoggiarsi alla recinzione per reggersi.» «Chi era?» chiese Paul, ma il tono della sua voce diceva che aveva paura di saperlo. «Devo andare in Kansas», disse sorella con decisione. «Devo seguire quello che ho visto nell'anello di vetro. Non smetterà di cercarmi perché anche lui vuole l'anello di vetro. Vuole distruggerlo e io non posso farlo cadere nelle sue mani o non saprò mai cosa dovrei trovare o chi sto cercando.» «Ti servirà un'arma da fuoco.» Paul era spaventato sia dalla storia di Cleve che dal terrore negli occhi di sorella. «Nessun essere umano avrebbe potuto superare quei lupi senza un graffio», pensò. «E su una bicicletta da corsa era davvero possibile che tutto quello che lei gli aveva detto fosse vero?» «Un'arma molto grossa», aggiunse. «Non esiste una abbastanza grande.» Sorella raccolse il suo borsone e iniziò ad allontanarsi dalla scuola, risalendo la collina verso la tenda che le era stata assegnata. Paul restò fermo e la guardò camminare. «Merda», pensò. «Che sta succedendo qua? Quella donna ha fegato da vendere. Ma finirà per farsi ammazzare sulla vecchia interstatale Ottanta.» Pensava che aveva tante possibilità di arrivare nel Kansas quanto un cristiano in una Cadillac di arrivare in Paradiso. Guardò le centinaia di tende sulle colline boscose, i piccoli fuochi da campo e le lampade accese che circondavano Homewood. Era brividi. «Questo dannato posto contiene troppa gente», pensò. Non sopportava di dover vivere in una tenda con altri tre uomini. Ovunque si girasse c'era gente. Era ovunque. E lui sapeva che molto presto se ne sarebbe dovuto andare o sarebbe impazzito. «Quindi perché non andare in Kansas? Perché no? Perché?» rispose a se stesso. «Non ci arriveremo mai.» «E allora? Avevi intenzione di vivere per sempre.» «Non posso lasciarla andare da sola», decise. «Gesù Cristo, non posso.» «Ehi!» le gridò dietro. Ma lei continuò a camminare senza nemmeno voltarsi. «Ehi! Forse posso aiutarti a ottenere una jeep. Ma questo è tutto. Non aspettarti che faccia altro.» Sorella continuò a camminare in preda ai pensieri. «Va bene. Ti aiuterò a procurarti anche del cibo e dell'acqua.» Le disse Paul. «Ma te la devi vedere da sola per l'arma e la benzina.» «Un passo alla volta», stava pensando lei. «Un passo alla volta ti porta dove stai andando.» «Oh, signore! Ho così tanta strada da fare.» «E va bene, dannazione! Ti aiuterò!» Sorella finalmente lo sentì. Si voltò verso di lui. «Che hai detto?» «Ho detto che ti aiuterò!» Si strinse nelle spalle e iniziò a camminare verso di lei. «Posso benissimo aggiungere un altro strato alla torta di merda, no?» «Sì», disse lei. E un sorriso si formò agli angoli della sua bocca. «Puoi benissimo farlo.» Calò l'oscurità e una pioggia gelida cadde su Homewood. I lupi ulularono nella foresta. Il vento soffiò la radiazione attraverso il paese. E il mondo girò verso un nuovo giorno.